Il treno regionale, 19-8-6-3, di Trenitalia, delle ore 1 e 12, proveniente da Bari Centrale, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19-9-7-1, di Trenitalia, delle ore 5 e 35, per Brindisi, è in partenza dal binario 5. Il treno regionale, 19-8-3-2, di Trenitalia, delle ore 7 e 05, per Bari Centrale, è in partenza dal binario 3. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Palagiano-Mottola. Il treno Intercity, 7-0-0, di Trenitalia, delle ore 8 e 01, per Roma Termini, è in partenza dal binario 1. Ferma a metà ponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale, Bellamuro, Siciniano degli Alburni, Eboli, Battipaglia, Salerno, Napoli Centrale, Aversa, Formia, Latina. La prima classe è in coda al treno. Carrozze dalla 8 alla 6 in testa al treno, dalla 5 alla 4 centro treno, dalla 3 alla 1 testa treno. Il treno regionale, 19-9-7-2, di Trenitalia, delle ore 9 e 07, proveniente da Brindisi, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Intercity Night, 7-6-5, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Lecce, delle ore 9 e 08, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Francavilla Fontana, Brindisi. La prima classe è in testa al treno. Carrozze dalla 1 alla 3 in testa al treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 coda treno. Su questo treno è disponibile il servizio cucette. Su questo treno è disponibile il servizio letto. Il treno Alta Velocità Frecciarossa, 88-20, di Trenitalia, delle ore 9 e 16, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 2. Ferma a Gioia del Colle, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Termoli, Pescara Centrale, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma. I livelli executive business sono in coda al treno. Il treno Intercity, 558, di Trenitalia, delle ore 9 e 23, per Reggio Calabria Centrale, è in partenza dal binario 4. Ferma a Metaponto, Policoro Tursi, Trebisace, Sibari, Corigliano Calabro, Rossano, Cariati, Ciro, Crotone, Botricello, Croppani, Catanzaro Lido, Soverato, Monasterace Stilo, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Siderno, Locri, Bodalino, Brancaleone, Melito di Portosalvo. Il treno regionale, 42, 96, di Trenitalia, delle ore 10 e 10, per Napoli Centrale, è in partenza dal binario 5. Ferma a Palagiano Chiatona, Ginosa, Metaponto, Pisticci, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale, Picerno, Baragiano, Bellamuro, Eboli, Battipaglia, Salerno. Il treno Intercity, 612, di Trenitalia, delle ore 10 e 32, per Milano Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma a Gioia del Colle, Bari Centrale, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Foggia, San Severo, Termoli, Vasto San Salvo, Pescara Centrale, Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio Fermo, Civita Nova Marche, Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Cattolica, San Giovanni Gabice, Riccione, Rimini, Cesena, Forli, Faenza, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo. Il treno Intercity, 7, 0, 1, di Trenitalia, delle ore 12 e 55, proveniente da Roma Termini, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Intercity, 5, 6, 4, di Trenitalia, delle ore 14 e 10, proveniente da Reggio Calabria Centrale, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 19, 9, 8, 1, di Trenitalia, delle ore 15 e 23, per Brindisi, è in partenza dal binario 2. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Nasisi, Monte Iasi, Montemesola, Villa Castelli.